...sulla pallone un giocatore del Novara, ci sono state le proteste, l'arbitro dice di continuare e c'è l'attacco adesso di Flamini, il tiro e il gol! Il tiro di Flamini, un tiro bellissimo, sono stati veramente gol molto belli quelli di questa partita all'altezza della spettacolarità della stessa Flamini che segna al 36esimo Questa è stata un'altrettanta protezza da parte del giocatore del Milan, tutto veramente molto bello Guardate, coordinazione, senso del tiro da parte di Flamini che ha calciato veramente molto bene Questo Novara, devo dire, temerario, poteva essere colpito solo con due protezze La protezza di Pippo Inzaghi nel primo tempo e questa di Flamini Guarda come si è coordinato bene, direi assolutamente, sorride giustamente